Cari amici, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi per questo sabato 3 settembre. Io sono Manuel e questa è Forza Lazio, partiamo con la nostra sigla. Beh ragazzi, ben ritrovati a tutti voi, oggi giornata di campionato, vi dico subito che chiaramente questa sera io e Fabrizio saremo in diretta per seguire l'attesissima Lazio-Napoli. Prima di andare avanti con il video di questa giornata vi ricordo velocemente che su YouTube ci trovate come Forza Lazio, su Facebook, Instagram e Twitter ci trovate come Canale Forza Lazio. La novità sta nel fatto che abbiamo chiuso il canale TikTok, semplicemente perché abbiamo fatto un periodo sperimentale di oltre un anno, non abbiamo fatto, sono sincero, senza dire bugie i numeri che mi aspettavo, quindi TikTok, profilo chiuso di Canale Forza Lazio. Un grazie alla nostra amica azienda, adesso vedete la locandina in sovraimpressione, grazie di vuole anche ai nostri iscritti al canale YouTube che ci danno un supporto mensile con una piccola cifra simbolica di 1,99 euro per affrontare in linea di massima le spese gestionali di questo piccolo progetto. Un grazie a tutti voi anche per il seguito sul nostro sito www.canaleforzalazio.com che vedete scritto qui in alto e il video che adesso vedete in sovraimpressione vi indica come diventare followers del nostro sito. Allora, oggi giornata di formazioni, faremo un video raccolto, sono molto curioso di vedere come andato il fantacalcio della terza giornata della quarta giornata e poi in automatico andremo anche a schierare la formazione della quinta giornata. Questa volta è tutto eccezionale, vista la situazione compressa delle partite la farò io la formazione, non ho avuto proprio modo e tempo di lanciare il solito sondaggio nella sezione community. Quindi andiamo subito a vedere cosa abbiamo combinato. Bene ragazzi, eccoci nella nostra lega. Ricordiamo che eravamo andati a punti, eccoci qui che finalmente siamo sbocati nella classifica, eravamo andati a punti nella settimana, nella giornata precedente. Andiamo a vedere un attimino la nostra formazione che avevamo schierato in occasione della quarta giornata, andiamo subito a vedere cosa abbiamo combinato così al volo. Allora abbiamo Maignan ragazzi che innanzitutto ci ha parato rigore, quindi è come se l'aveste segnato. Molto bene Parisi, bene bene bene, Jomber non tanto ma comunque bene, Lazari ha fatto il suo. Abbiamo Marinovski senza voto, Milinkovic e Savic abbiamo l'assist, andiamo più giù. Poi abbiamo Immobile che ha segnato il 6 di Cesai, quindi non ha giocato Marinovski a centrocampo. Fortunatamente ci ha giocato Adli, quindi abbiamo giocato sicuramente in 11. Potremmo, mamma mia ragazzi, in panchina dei nostri in gioco, proprio nessuno ragazzi, questo è il nostro problema. Andiamo a calcolare la quarta giornata, vediamo un pochino, torniamo indietro. Purtroppo ragazzi 0 punti per noi, 0 punti per noi come possiamo vedere qui, però abbiamo fatto un 76 e mezzo, che è ottimo ragazzi, è buono 76 e mezzo, quindi sono andati bene gli altri, ecco, merito degli altri che sono andati meglio di noi. Comunque abbiamo fatto il nostro. La classifica aggiornata, vede Liverpool in testa con 33 punti, segue Alaska a 30, Atletico ma non troppo a 28, a 27 arrivo secondo e poi man mano, man mano, tutti gli altri. Noi scendiamo al sedicesimo posto e insomma ragazzi, insomma, già 26 squadre andate a punti, sto vedendo, insomma ci sarà assolutamente da soffrire, ma ripeto questa squadra è da sistemare. Pensiamo alla giornata odierna che, ripeto, avrà oggi il suo inizio, quindi schieriamo in porta Maegnan che è sicuro al 100%, partiamo sempre dal nostro 343. Allora, abbiamo sicuri di giocare, Lazzari, per me è un titolare fisso, ve lo dico sinceramente, poi abbiamo Jomber contro l'Empoli, Lico Giannis contro lo Spezia e Parisi contro la Salernitana. Beh, ragazzi miei, io mi gioco Lico Giannis e Parisi. Andiamo a vedere il nostro centrocampo, Milinkovic non si discute, gioca pure con una gamba sola. Situazione drammatica, come potete vedere a centrocampo. Porca miseria, abbiamo Barak che ha poche poste, Felipe Anderson gioca perché dalle notizie che ho ricevuto dovrebbe farcela giocare, Miranciuk infortunato, D'Alessandro infortunato, siamo costretti a mettere Marinoschi e siamo costretti a mettere Barak, partendo dal presupposto che Adli entra quasi sempre. Quindi abbiamo sicuramente un'alternativa in grado di, in caso mancasse qualcuno dei nostri centrocampisti che entra. In attacco abbiamo sicuro Ciro e Mobile. Guardate pure qua ragazzi, in verde non c'è nessuno. Un As non convocato l'abbiamo perso, quindi dobbiamo andare a sostituirlo. Abbiamo SESAI contro il Torino. Giochiamoci SESAI e Cancegliari che come al solito farà lo spezzone. Capitano, inutile dirlo. Mettiamo il nostro Ciro e Mobile, Vice Capitano Lazzari. Andiamo a fare anche la panchina. Guardate qua ragazzi, non abbiamo alternative in attacco. Ragazzi non abbiamo alternative in attacco, maledizione. Tutti infortunati con un As che è andato via, quindi dobbiamo proprio sperare che giochi noi tre che abbiamo schierato. Qua abbiamo... qualcosa mi dice di mettere Luca Romero prima, guardate un po'. Luca Romero prima alternativa, secondo Adli, poi abbiamo Miranciuk, poi abbiamo... mamma mia che questa squadra è da ricostruire proprio ragazzi, è da ricostruire proprio. Poi difesa, difesa mi gioco Bonucci prima alternativa, mi gioco Mario G, la seconda alternativa. Pure gli Arosischi l'abbiamo perso. Beh ragazzi, questa è una squadra da fare, è proprio una squadra da fare, da rifare proprio. Da rifare completamente. Comunque ecco qui, questa è formazione salvata, quindi andiamo un attimino a fare un riepilogo veloce prima di chiudere questo video. Importa Maignan, Lazzari, Ligogiannis e Parisi sarà il nostro terzetto di difesa. Malinoski, Felipe Anderson, Milinkovic e Savic e Barak saranno i quattro di centrocampo. Attacco con Immobile, Sesai e Cancellieri. Questa è la nostra formazione per quanto riguarda la quinta giornata di Fantacalcio. Stiamo messi male ragazzi, ditemi la vostra cosa ne pensate, ma secondo me meglio di così onestamente non si poteva proprio fare. Un abbraccio a tutti e a dopo.